Secondi, la Porto Ceresio e poi a seguire Aurora, Aurora, Renese e Uragna. Ha tagliato traguardo la Osteno, adesso la Porto Ceresio, adesso c'è la lotta tra i due equipaggi dell'Aurora Blevio per il terzo posto e poi a seguire Renese e Uragna. Allora tra 5 minuti vi aspetto tutti qua sotto.